Buonasera ragazzi, come state? Non la potevo non fare la diretta stasera, io non so se state seguendo spero per voi di no perché significherebbe che avete di meglio da fare ed è difficile avere di peggio da fare che star lì a guardare la politica, ma io non so se voi avete visto quello che è successo nelle ultime ore è qualcosa di leggendario, cioè noi, io mi ricordo ero veramente piccolo o comunque giovane decisamente quando c'erano gli scleri, gli sfoghi in Parlamento di Craxi che era prossimo alla caduta era prossimo alla dipartita politica per l'amor di Dio e si scagliava, si scagliò contro il Parlamento si scagliò soprattutto contro l'informazione, si scagliò contro la magistratura e ricordo che pensai io come immagino molti di voi, cavolo ma non esiste una roba del genere, certe cose dette in Parlamento noi abbiamo visto adesso, qualche minuto fa, qualche ora fa, la stessa identica scena solo che l'ha detta il leader di una forza politica che se raggiunge il 4% è un miracolo a scagliarsi contro la magistratura e l'informazione è stato uno che se si vota domani secondo me non supera la soglia di sbarramento del 4% ma che è ancora pontifica, che ancora è lì che in qualche modo detta la linea di alcuni giornali, di alcuni pseudogiornalisti ovviamente mi sto riferendo al Cazzaro Rosè, non ne farò il nome perché non lo voglio fare che è stato veramente minuti e minuti interi al Senato paragonandosi e citando Craxi, Aldo Moro, ha citato anche il presidente della Repubblica Leone che sarebbe stato disarcionato da uno scoop inesistente lasciando intendere che anche lo scoop e l'inchiesta sulla fondazione Open sono tutti inesistenti cioè di fatto si è paragonato il Cazzaro Rosè a tutti i grandi martiri, secondo lui, della politica italiana e il succo era non mi avrete, voi giornalisti cattivi, poi lui parla che è stato penso il presidente del Consiglio più venerato dalla stampa italiana, la stampa ha dato il peggio, la stampa intesa come media, giornali, televisioni, radio salvorare eccezioni hanno dato il peggio di se stessi tra il 2013 e il 2016-17 soprattutto prima del referendum del 4 dicembre 2016 e questo scienziato, questo fenomeno, questo genio contemporaneo, questo sosia di Clark Gable questo bocciuolo in fiore che si scaglia per minuti e minuti contro l'informazione, contro la magistratura ma che roba è? ma che cazzo di politica abbiamo in questo paese? ma stiamo scherzando? ma veramente c'è ancora gente che è disposta a votare uno così? ma se lo avesse fatto Silvio Berlusconi e lo ha fatto, anche se in Parlamento non è mai arrivato a questi livelli se lo avesse fatto Berlusconi sarebbero scesi in piazza ma milioni di persone e sicuramente ci sarebbero stati titoloni nelle prime pagine dei giornali penso a Repubblica, penso all'Espresso che pure è meritorio nell'inchiesta sulla Fondazione Open e non solo quindi sto parlando di testate estremamente nobili ci vogliamo rendere conto e vi volete rendere conto anche voi che 3-4 anni fa mi mandavate a fanculo perché osavo votare no al referendum e perché osavo parlare male del cazzaro Rosé e perché osavo scrivere libri contro, o per meglio dire, che parlavano in maniera non ageografica del cazzaro Rosé ci vogliamo rendere conto che politicamente, e sottolineo, politicamente parlando il cazzaro Rosé è la più grande sciagura mai abbattutasi nella storia del centro-sinistra italiano? ce ne vogliamo rendere conto o ancora vogliamo continuare ad ascoltare gli strali, gli sfracelli mediatici le in mani cazzate politiche che dice questo cazzaro Rosé io veramente, cioè, a che livelli siamo arrivati? ma vi sembra normale quello che abbiamo appena letto nei siti, quello che è appena andato in scena al Senato? roba da matti! e questo qua è l'ago della bilancia di quello che è verosimilmente, anzi per distacco di quello che è il governo sicuramente meno peggio che ci possa essere oggi siamo messi bene, oh, visto che sono molto in forma perché il libro continua il cazzaro verde continua ad andare benissimo è notizia di questi giorni, perché l'ho saputo due giorni fa la data del cazzaro verde, il debutto, il 21 dicembre a Milano è sold out dopo domani racconterò i Pink Floyd ad Arezzo è sold out diciamo che mi sta andando bene, il merito non è mio ma è vostro e quindi sono molto carico, stasera rivedo anche un mio amico a cena che non vedo da un bel po' di tempo ecco, dicevo, visto che sono carico e sono così carico che adesso bevo anche un po' di vino alla vostra poi ve li leggo i vostri commenti, ma adesso sono carico quindi adesso parlo io ecco, io vorrei anche poi esprimere tutta la mia stima il mio profondo rispetto la mia vicinanza umana, sentimentale, intellettuale, ideologica, ma oserei dire anche fisica per quegli scienziati del Movimento 5 Stelle che ieri hanno votato contro il MES e alcuni di questi, soprattutto uno, vedo, è ufficiale sono passati a Salvini ora, io so benissimo che non esiste il vincolo di mandato e so benissimo che ci sono dei temi nei quali bisogna essere profondamente liberi per esempio, se io facessi parte di un partito politico, quindi mai e votassero contro l'eutanasia col cazzo che io li seguirei ci sono dei temi etici che sono assolutamente ineludibili e troppo personali ma se tu sei al governo e tu sai che basta un reforo di vento per far cadere il governo di cui anche tu fai parte e se tu hai accettato le regole del gioco di un movimento che ha tutti i difetti del mondo ma le hai accettate e grazie a quel movimento politico sei diventato qualcuno perché senza quel movimento politico non eri nessuno non lo sei anche adesso nessuno ma prima lo eri ancora meno nessuno ecco, se tu accetti tutte queste cose poi te le sporchi le mani poiché la politica è sangue merda tu ti becchi sia il sangue sia la merda perché la politica è questo la politica è passione fine ai 18 anni poi rimane poco della passione e allora vedere questi scienziati questi dissidenti di professione ce ne fosse stato uno uno nella storia del Movimento 5 Stelle che poi non abbia deluso dopo aver rotto le palle sulla libertà sulla democrazia interna del Movimento 5 Stelle ecco, vedere questi fenomeni che votano no al MES e quindi al governo mettendo in difficoltà il Senato e il governo e qualcuno di questi addirittura passa a Salvini che fenomeni ma che coerenza ora non faccio i nomi anche perché non me li ricordo perché sarebbe come ricordarsi non lo so le sottozone della doc G Valtellina sono cose difficili anzi le sottozone della Valtellina sono molto più nobili per esempio il Sassella il Grumello la Valgella come vedete me le ricordo tutte più o meno l'Inferno non me li ricordo invece questi scienziati ex Movimento 5 Stelle che stanno correndo da chi? da Matteo Salvini ma che uomini coerenti che siete che persone veramente delicate garbate oserei dire che il vostro atteggiamento mi ricorda vagamente la schiena dritta che aveva Sandro Pertini ecco mi ricorda un po' quello siete veramente belli siete forti siete affascinanti siete il futuro della politica italiana cioè voi avete fracassato i coglioni entrando in Parlamento dicendo che avreste cambiato la politica prendo il Parlamento come scatoletto di tonno che voi eravate diversi da tutti e poi improvvisamente questi due o tre fenomeni contemporanei che fanno vanno a scodinsolare da Salvini e attenzione ci vanno non è che sai uno abbandona i 5 Stelle e dice dove sei andato ma sai ho incontrato la buonanima di Bakunin e sono andato da Bakunin bravo bravo Dio lo farei anch'io come? lo farei se incontrassi la buonanima di Nenni la buonanima di Pertini la buonanima di Berlinguer no tu fai tutto questo casino per andare nel partito di Salvini di Borghezio di Calderoli che sono tutte tra l'altro personcini a modo sono politici belli e sono anche dei politici che ci hanno sempre un po' insegnato la coerenza che ci hanno insegnato anche i valori che sono molto cari al Movimento 5 Stelle per esempio i valori dell'ambiente chi è più vicino della Lega all'ambiente chi più della Lega è sensibile a certi temi come la questione morale come l'attenzione all'ambiente come il rispetto del territorio come la coerenza come la lotta a Gabbana come la lotta alla casta è veramente bello è qualcosa di abietto la politica italiana sta dando il peggio di sé fatte salve per l'amor di Dio delle sporadiche eccezioni e io in questo senso desidero esprimere tutta la mia solidarietà tutta la mia stima tutto il mio affetto e tutta la mia benevolenza Nicola Morra il presidente della commissione antimafia del Movimento 5 Stelle che è un mio amico e io la parola amico applicata a quelli che fanno parte del Parlamento la posso usare poco e niente perché non ho amici tranne 4 o 5 forse anche meno nel Parlamento italiano attuale ma pure in quello precedente Nicola Morra è un amico Nicola Morra è uno che se lo vedo a Roma ceniamo insieme ceno anche con sua moglie con i suoi figli è una persona splendida una famiglia splendida e ha ricevuto questo avvertimento di stampo platealmente mafioso almeno leggendo le notizie perché sai tu esci di casa ti trovi due gatti sgozzati sotto casa pieni di sangue a terra il messaggio è inequivocabile vi devo dire ve lo dico a voi che siete ormai più di 2000 collegati grazie vi devo dire che ho parlato oggi pomeriggio con Nicola Morra che ha avuto l'affetto e la bontà di chiamarmi per ringraziarmi del post che ho scritto su questa pagina qualche ora fa e devo dire che Nicola mi ha tranquillizzato perché lui ha detto che la situazione non è stata così tragica o meglio i gatti c'erano non erano stati sgozzati ma sono stati massacrati a bastonate e questo è terrificante detto poi da uno come me che è vegetariano gli girano particolarmente i coglioni a sentire queste cose scusate per le parolacce che ogni tanto mi escono ma quando mi arrabbio sono uno che non cerca i sofismi e gli eufemismi e lui dice che non era un avvertimento mafioso probabilmente ma era semplicemente il gesto di delle immani carogne che hanno fatto questa cosa e probabilmente neanche sapevano che lì ci abitasse Nicola Morra quindi secondo lui non aveva una valenza mafiosa e non era una minaccia per Nicola Morra io voglio sperare che sia vero voglio sperare che lui abbia ragione l'ho sentito molto bene molto carico di sicuro non è uno che si ferma per queste cose però a prescindere da tutto voglio esprimere tutta la mia vicinanza a una bella persona come Nicola Morra e visto che aumentate sempre di più e visto che adesso devo bere scusa e scusate tra l'altro lo tengo qui nel gambo perché c'è sempre qualche rompipalle che dice non si tiene qui il bicchiere ma si deve tenere qui in fondo il gambo lo so essendo sommelier lo so bene vi dicevo eccoci qua visto che siete tanti e sono carico e ho appena raccontato il peggio della politica prima il cazzaro rosè poi i volta gabbana di professione che possono essere ex 5 stelle ma possono essere ex PD ex lega il volta gabbana mi sta antipatica a prescindere perché incarna il peggio della politica e il peggio della politica è multiforme e bipartisan e trasversale voglio dire che domani sera in quella che sarà l'ultima puntata dell'anno per l'amor di dio dell'anno di accordi e disaccordi noi avremo un ospite incredibile sarà una puntata particolare quella di domani sarà particolare perché dopo domani cioè domani sera ci sarà la puntata dopo la replica di crozza non ci sarà crozza domani ci sarà o meglio ci sarà ma ci saranno le repliche di crozza il best of di crozza poi ci saremo noi alle 22.45 e poi ci fermeremo quindi ricominceremo con accordi e disaccordi se non sbaglio l'ultimo venerdì di febbraio ma questo ve lo dirò meglio più avanti chi sarà l'ospite di domani in quella che sarà l'ultima puntata dell'anno sarà un politico di cui io stima lo dico senza mezze misure senza nascondermi ma tanto lo sapevate già perché ci conosciamo da qualche anno ormai sarà un politico che è forse il politico più importante che c'è oggi in Italia sarà sicuramente il politico più amato dagli italiani almeno stando ai sondaggi che non è Salvini anche se Salvini continua a farlo credere non è Salvini il politico più amato dai sondaggi sarà un politico che non era politico fino a un anno fa un anno e mezzo fa sarà un politico che non va mai in televisione che ci è andato solo due volte nel precedente governo se non ricordo male ci è andato soltanto con Vespa e con Floris in un anno di Saldimaio e sarà un politico che dopo la crisi di agosto lo scontro con Salvini e la nascita del governo che io chiamo Mazinga non è mai andato in televisione mai mai capite bene che una puntata del genere è una puntata forte è una puntata a suo modo perdonatemi storica ancor più perché parliamo di un programma che sta andando benissimo ma che è stata è nata come scommessa perché non andiamo né sulla Rai né su Mediaset né sulla Sette andiamo in seconda serata su un canale bellissimo straordinario come Nove che però non parlava di politica fino a poco tempo fa ecco tutto questo per dirvi ma lo sapete già l'avete già intuito magari qualcuno l'ha già letto anche in rete o stamattina sul Fatto Quotidiano sono orgoglioso felicissimo e davvero gioioso nel comunicarvi ufficialmente che domani sera l'ospite di Accordi e Disaccordi l'ospite mio di Luca Somme e di Marco Travaglio sarà Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio e il fatto che Giuseppe Conte abbia scelto come sua prima uscita ufficiale in un talk show Accordi e Disaccordi e quindi Travaglio Sommi e il Sottoscritto e quindi Loft e quindi Nove e quindi il Fatto Quotidiano è una grande soddisfazione è una grande gioia ed è anche una grande responsabilità e io spero che sarò e saremo alla vostra altezza perché immagino che le aspettative saranno molto alte vi posso promettere che faremo una puntata come sempre facciamo per Accordi e Disaccordi e cioè sarà una puntata divertente perché il tono di Accordi e Disaccordi è un tono divertente diverso dagli altri talk che sono per carità spesso divertenti e sicuramente fatti meglio del nostro non sto facendo un discorso meritocratico per l'amor di Dio noi siamo gli ultimi arrivati siamo i peggiori dico che il nostro tono vuole essere divertente mai serioso ma comunque serio nel senso di fare le domande giuste con rispetto con garbo io quando sono padrone di casa non mando a quel paese nessuno non lo faccio neanche come ospite ma è chiaro che come ospite posso alzare un po' di più i toni se faccio il padrone di casa di sicuro non posso spaccare i tavoli non posso spaccare le sedie non posso spaccare i mobili ne voglio farlo e di sicuro non lo farò con Giuseppe Conte che è una persona ripeto che non conosco non l'ho mai vista da vivo non ci ho mai parlato neanche al telefono non ci siamo mai mandati neanche mezzo messaggio ma è una persona di cui io stima vi prometto che farò le domande che secondo me secondo il mio giudizio assolutamente opinabile e parziale saranno le domande giuste da fare questo volevo dire perché avere Giuseppe Conte mi sembra una grande notizia e una bella vittoria per tutti noi di Accordi e Disaccordi di Loft di Nove del Fatto Quotidiano e esprimo anche tutta la mia gioia anche non solo mia ma anche di Luca Somme e di Marco Travaglio dopo aver parlato così tanto e avervi raccontato di cose belle cose meno belle dopo avervi detto che dovete per forza comprare il Cazzaro Verde dopo avervi detto che dovete venire a gennaio a vedere il Cazzaro Verde il 22 gennaio a Bologna e il 23 gennaio a Roma se volete ci facciamo un bel giro di domande un 5-10 minuti e poi ci salutiamo è vero è vero hai ragione è vero mi ricorda hai ragione mi ricorda un uno spettatore che Conte è stato una volta da Vespa anche con il governo questo quindi è vero hai ragione quindi sarà credo la seconda uscita è vero era già stato da Vespa hai fatto bene perché avrei fatto un posto sbagliando è vero è già stato da Vespa quindi sarà la seconda uscita da quando è nato il governo Conte 2 tutti i commenti vedo quasi tutti positivi nei confronti di Giuseppe Conte sto cercando di trovare delle domande giuste se non le trovo continuo a parlare io beh vedo che siete molto entusiasti per l'arrivo di Giuseppe Conte ad accordi e disaccordi domande poche entusiasmo tanto questo mi fa piacere e io mentre caricate i pallettoni per le domande ripeto che quello che ho visto oggi al Senato è qualcosa di allucinante ragazzi io scusate se batto il tasto su questo su questo aspetto insisto lo acquistate poi lo leggerò scrive Mirella fai bene devi comprare non devi sarebbe stato bello se tu lo avessi comprato il cazzaro verde lo hai fatto e sono felice è un libro che sta avendo molta fortuna e che vi garantisco anche a teatro sarà divertentissimo ma io scusate se torno su questo argomento ma non è accettabile quello che è successo oggi al Senato io i toni che ha utilizzato il cazzaro rosè sono veramente il peggio di quello che abbiamo visto da parte di Craxi che comunque aveva una statura politica sideralmente superiore alla sua e oserei dire anche il peggio di quello che ha fatto in termini di magistratura Silvio Berlusconi o comunque i toni sono quelli del resto io nel libro Rensusconi definivo il cazzaro rosè un allievo ripetente o un Berlusconi che non ce l'ha fatta e siamo sempre lì l'idea che quest'uomo abbia tenuto sotto scacco il centro-sinistra con il placet e con il bene placito di larga parte del centro-sinistra italiano è aberrante voi non vi potete neanche immaginare gli insulti che ho preso per avere osato dire quello che secondo me era non solo inattaccabile ma anche scontato e cioè chi fosse secondo me il cazzaro rosè ovvero una sorta di Troia North che si era inoculato nel sistema del centro-sinistra per spolparlo per uccidere definitivamente la sinistra e per consegnare sempre più voti al centro-centro-centro che guardava verso destra ed è quello che è successo vederlo che pontifiche che utilizza questi toni tra l'altro sfruttando il senato come se fosse casa sua per parlare di quelli che sostanzialmente sono i suoi cazzi perché francamente con i problemi che ha il paese credo che ha 99.000 italiani su 100.000 ma anche più cosa vuoi che gliene freghi della fondazione Open con tutto il rispetto e per me c'è la presunzione di innocenza e per l'amor di Dio per me sono innocenti tutti sicuramente è innocente Renzi che non ha neanche mezzo di avviso di garanzia non è indagato per l'amor di Dio le mie sono solo valutazioni politiche sottolineo politica che non hanno niente di umano non hanno niente di giuridico non hanno niente di legale ma per me sono innocenti anche Carrai è innocente anche Bianchi si sta parlando di qualcosa che politicamente ed eticamente suscita dei dubbi e soprattutto stiamo parlando di giornalisti che stanno facendo il loro lavoro e vedere la politica che si riduce a questo spesso è qualcosa di profondamente abietto tra l'altro a proposito di magistratura stamattina è fatto quotidiano il giornale in cui mi vanto e su cui mi vanto di scrivere ha riportato la notizia di questa indagine che riguarda se non ricordo male per abuso d'ufficio Matteo Salvini devo dire che anche Matteo Salvini sta vivendo un momento straordinario un momento proprio di grande forza rimane ampiamente sopra il 30% però nei sondaggi comincia a scemare comincia a calare e in questo senso io condivido totalmente quello che ha detto insieme a me Massimo Cacciari che secondo la mia compagna è il mio papà perché gli somiglio parecchio quando ha detto più dura questo governo più dura il governo Conte più calano Salvini e aggiungo io Renzi anzi il cazzaro Rosè credo che sia vero e proprio per questo voglio sperare che il cosiddetto cronoprogramma cioè quest'idea di ripartire dopo la manovra da parte delle quattro forze di governo sia qualcosa di vero sia qualcosa di autentico sia qualcosa di serio cioè spero e auspico che finalmente il Partito Democratico che per carità spesso è molto corretto in questo senso alludo soprattutto a Zingaretti che dei leader almeno dei grandi leader della maggioranza grandi come intendo dire come percentuale è il più serio e quindi mi riferisco soprattutto agli altri due più che a Bersani e a Speranza mi riferisco a Di Maio a Cazzaro Rosè ecco spero che sia possibile che soprattutto Di Maio che può dare delle cose positive al paese l'altro sicuramente no politicamente no spero che Di Maio cominci a raddrizzare un po' la barra perché se continua così il suo movimento implode il governo cade loro non arrivano al 10% alle prossime elezioni e noi consegniamo il paese la peggiore centrodestra d'Europa ho detto alla al femminile perché stavo per dire la peggiore destra d'Europa poi ci ho messo il centro ma probabilmente ha detto una sciocchezza perché centro chi è il centro è Totti che non raggiunge l'1% è Berlusconi che di centro non so quanto abbia e che comunque sta calando drammaticamente anche lui vabbè speriamo speriamo non lo so ragazzi mi sembra un momento un momento veramente avvilente della politica italiana anche per questo venite a vedermi a teatro perché almeno due risate ce le facciamo vi garantisco che raccontare a teatro Matteo Salvini è divertentissimo e sarà divertentissimo perché è una sagoma involontaria ma fa ridere dalla mattina alla sera io sto rileggendo il libro sto trovando delle cose che ha fatto ma anche recenti pensate pensate quello che ha fatto sulla Madonna di Meggiugori pensate quello che ha detto sul mess pensate quello che ha detto sulla Nutella ma tutto cioè sono delle cose siamo oltre siamo veramente oltre io non non credevo possibile che raggiungessimo questi livelli ogni tanto mi blocco e voi direte cavolo questo ha avuto una sincope un mancamento è che sto provando a leggere però in realtà stasera siete più da commento giustamente perché sto parlando soltanto io quindi in realtà il 90% almeno quando leggo io magari poi mi sono perso i messaggi che dicono devi morire carogna sudicio però diciamo il 90% di quello che leggo è bene sono d'accordo bravo conte brutto Renzi brutto tra virgolette vabbè tra virgolette lasciamo perdere che bello ascoltarti grazie Anna Mari Anna Mari? Sì Anna Mari la chitarra sullo sfondo è sempre quella di Stevie Ray Vogan a Natale regalo il tuo libro ti ringrazio Ramona sei molto gentile abbiamo cambiato forma mi chiede Fabiano nel formato televisivo perché ci piace molto di più avere un solo ospite mi chiedeva perché da due ospiti siamo passati a uno perché abbiamo una maniera di intervistare molto approfondita molto densa e con due ospiti non ce la facevamo preferiamo avere un ospite e fargli un garbato terzo grado dico garbato perché chiunque viene da noi si trova bene ma al tempo stesso riceve le domande giuste ed è una formula che ci piace molto così come ci piace tantissimo avere dieci minuti conclusivi dodici, tredici quelli che sono con la rubrica straordinaria del buon grande Marco Travagio non rispondo sulle sardine per l'amor di Dio ho già risposto miliardi di volte quindi mi perdonerete se come se anzi da ora in poi non risponderò alle domande a cui ho risposto almeno 20 volte beh mi state più che altro salutando ragazzi vedo che le domande sono poche quindi mi sa che ci saluteremo ed è giusto così perché ho parlato anche troppo io vi saluto allora vi saluto vi do appuntamento a domani vi do appuntamento a domani alle 22.45 dopo il repeat lo chiamiamo così diciamo il best of di Maurizio Crozza sul 9 alle 22.45 ci sarà l'ultima puntata dell'anno dell'anno poi torneremo verso la fine di febbraio con Accordi e Disaccordi ma domani sera l'ospite sarà Giuseppe Conte e poiché Giuseppe Conte va pochissimo in televisione io me lo ricordo solo due volte durante il sal di maio in tv nei talk show e solo una volta da Vespa con questo governo Mazinga beh è un'occasione più unica che rara non lasciatevela scappare guardatela in diretta e spero che vi piacerà così come spero che vi piacerà il cazzaro verde il mio ultimo libro che ha la decima ristampa che è sempre nella top 10 della saggistica che sta andando bene grazie a voi che deve continuare ad andare bene almeno fino a Natale quindi compratelo regalatelo leggetelo diffondetelo divulgatelo dopo averlo comprato possibilmente e vi invito anche sabato a vedere lo spettacolo sui Pink Floyd nella mia città al teatro per Tararca di Arezzo è strapieno e quindi invito quelli che hanno già il biglietto perché gli altri purtroppo non potranno entrare perché i biglietti sono finiti dopo 4-5 giorni e poi invito tutti ma tutti tutti voi alle tre date speciali del cazzaro verde versione teatrale il 21 dicembre che è un sabato a Milano teatro Leonardo tutto esaurito con due settimane di anticipo grazie siete meravigliosi e poi segnatevelo perché qui ci sono ancora dei posti quindi è proprio l'ultima cosa che vi dico in questa diretta così ve la segnate 22 gennaio Bologna il cazzaro verde teatro Deun è un mercoledì e il giorno dopo giovedì 23 gennaio teatro Italia a Roma ci sarà la terza replica la terza data speciale teatrale del cazzaro verde e ci sono ancora dei posti sia a Bologna pochi sia a Roma un po' di più io vi saluto vi abbraccio abbraccio ancora una volta Nicola Morra e gli invito gli invio anche invito si lo invito a cena ma gli invio tutti gli abbracci possibili tutti gli auguri del mondo a lui e famiglia ribadisco tutta la mia perplessità per usare un eufemismo nei confronti di quello che ho sentito di profondamente aberrante oggi al Senato detto dal sedicente leader di quel partito Simoro chiamato se non ricordo male Italia Viva esprimo tutta la mia diversamente stima nei confronti dei trasfughi di qualsiasi parte politica siano essi 5 Stelle Salvini Italia Viva PD Fratelli d'Italia ma io non sopporto i Volta Gabbana non sopporto i trasfughi non ne ho nessun rispetto e trovo che chi sta cambiando casacca in queste ore in questi giorni passando da una forza all'altra mettendo a repentaglia rischio il governo sia storicamente non perdonabile ma soprattutto vi saluto vi auguro una splendida serata vi dico di godervela perché bisogna sempre godervela e come diceva Nanni Moretti ormai è diventato il nostro mantra mentre vi inquadro il disco di Giorgio Gaber e la Stevie Ray Vaughan Fender Stratocaster meravigliosa come diceva appunto il buon Nanni Moretti quando parlava di politica un po' più spesso di adesso non perdiamoci di vista ciao ciao